Procede spedita la campagna vaccinale nel Terramano, in particolar modo nel lab dell'Università di Teramo, che sta facendo registrare ottimi risultati. Nella sola giornata di martedì in Ateneo sono state somministrate 1.600 dosi in 9 ore, numero record per un centro vaccinale dell'ASL locale, il tutto senza che si siano create code o ritardi degni di nota. In questi giorni a vaccinarsi ci sono diverse fasce di età, dagli over 40 agli over 70 e anche le seconde dosi di universitarie e forze dell'ordine. Ieri pomeriggio è stato anche il turno del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che ha ricevuto AstraZeneca come prima dose di vaccino. È un momento importante come lo è per tutti, secondo quello che è il calendario che viene stilato, deve essere vissuto il giorno del vaccino come un giorno di festa, di liberazione, atteso da tempo, sia per quanto riguarda il singolo, quindi per la responsabilità individuale di ciascuno di noi, che poi è la responsabilità collettiva. Ecco perché l'occasione di ieri è stata utile per rilanciare nuovamente un messaggio a tutta la comunità di effettuare il vaccino, di percepire la necessità di vaccinarsi, di vaccinarsi tutti. Ecco perché in questa fase, in un momento in cui abbiamo finalmente una disponibilità dei vaccini, una campagna vaccinale che sta entrando nel vivo, occorre assolutamente spingere per una vaccinazione dei ragazzi più giovani, di chi circola di più. Ecco perché abbiamo lanciato nei giorni scorsi una proposta al sistema sanitario regionale di avviare, anche anticipando i tempi, delle campagne vaccinali dedicate alle fasce più giovani, che in questo momento peraltro sono quelle più interessate alla diffusione del contagio e fare questo tipo di azione consente anche di accompagnare le riaperture con maggiore serenità, sicurezza e fiducia. Un'altra notizia positiva è quella dell'Hub di Teramo che sta dando ottimi risultati. Sì, lo stiamo riscontrando tutti. È stata una scelta felice, quella congiunta da parte del Comune di Teramo, dell'Università e dell'ASL, un hub che sta vaccinando con regolarità ed è molto importante che dal punto di vista logistico ci sia un sistema che funzioni, perché aiuta sicuramente a trasmettere e infondere fiducia, quella fiducia che come istituzioni dobbiamo assolutamente comunicare alla nostra cittadinanza, alle nostre comunità. Siamo giunti al mese decisivo, anzi due mesi decisivi, maggio e giugno, sono i mesi nei quali dovrà essere intensificata la campagna vaccinale proprio per accompagnare la riduzione della diffusione del contagio verso l'uscita della pandemia.